Capitolo 7 Un'Associazione Continua Capitolo 7 Capitolo 7 Capitolo 7 Capitolo 7 Capitolo 8 sorgendomi con gesto largo la sua destra. Sulla sua faccia tanto bella, che sempre pareva dolce, vi fu un atteggiamento molto severo, per rilevare la pura fraternità della relazione che mi veniva offerta. Allora ricordai, e arrossì. Forse, se avessi ricordato prima, non sarei ritornato a quell'ufficio mai più. Era stata una cosa tanto breve, e ficcata in mezzo a tante altre azioni dello stesso valore, che se ora non fosse stata ricordata, si avrebbe potuto credere non fosse esistita mai. Pochi giorni dopo l'abbandono di Carla, io mi ero messo a esaminare i libri, facendomi aiutare da Carmen, e pian pianino, per vedere meglio nella stessa pagina, avevo passato il mio braccio intorno alla sua vita, che poi avevo stretta sempre più. Con un balzo Carmen si era sottratta a me, ed io allora avevo abbandonato l'ufficio. Io avrei potuto difendermi con un sorriso, inducendola a sorridere con me, perché le donne sono tanto propense a sorridere di delitti siffatti. Avrei potuto dirle. Ho tentato una cosa che non mi è riuscita e me ne duole, ma non vi tengo rancore, e voglio esservi amico finché non vi piacerà altrimenti. O avrei potuto rispondere anche da persona seria, scusandomi con lei e anche con Guido. Scusatemi e non giudicatemi prima di sapere in quali condizioni io mi sia trovato allora. Invece mi mancò la parola. La mia gola, credo, era chiusa dal rancore solidificato, vi sì, e non potevo parlare. Tutte queste donne che mi respingevano risolutamente davano addirittura una tinta tragica alla mia vita. Non avevo mai avuto un periodo tanto disgraziato. Invece di una risposta non mi sarei trovato pronto che a digrignare i denti, cosa poco comoda, dovendo celarla. Forse mi mancò la parola, anche pel dolore di veder così recesamente esclusa una speranza che tuttavia accarezzavo. Non posso fare a meno di confessarlo. Meglio che con Carmen non avrei potuto rimpiazzare l'amante che io avevo perduta, quella fanciulla tanto poco compromettente che non m'aveva chiesto altro che il permesso di vivermi accanto, finché non domandò quello di non vedermi più. Un amante in due è l'amante meno compromettente. Certamente allora non avevo chiarite tanto bene le mie idee, ma le sentivo, e adesso le so. Divenendo l'amante di Carmen, io avrei fatto il bene di Ada, e non avrei danneggiato di troppo Augusta. Ambe due sarebbero state tradite molto meno che se Guido e Dio avessimo avuta una donna intera per ciascuno. La risposta a Carmen io la diedi vari giorni appresso, ma ancora oggi dì ne arrossisco. L'orgasmo in cui m'aveva gettato l'abbandono di Carla doveva sussistere tuttavia per farmi arrivare ad un punto simile. Ne ho rimorso come di nessun'altra azione della mia vita. Le parole bestiali che ci lasciamo scappare rimordano più fortemente delle azioni più nefande cui la nostra passione ci induca. Naturalmente, designo come parole solo quelle che non sono azioni, perché so benissimo che le parole di Iago, per esempio, sono delle vere e proprie azioni. Ma le azioni, comprese le parole di Iago, si commettono per averne un piacere o un beneficio, e allora tutto l'organismo, anche quella parte che poi dovrebbe erigersi a giudice, vi partecipa e diventa dunque un giudice molto benevolo. Ma la stupida lingua agisce a propria e a soddisfazione di qualche piccola parte dell'organismo, che senza di essa si sente vinta, e procede alla simulazione di una lotta quando la lotta è finita e perduta. Vuole ferire o vuole accarezzare, si muove sempre in mezzo a dei traslati mastodontici, e quando son roventi le parole scottano chi le ha dette. Io avevo osservato che essa non aveva più i colori che l'avevano fatta ammettere tanto prontamente nel nostro ufficio. Mi figurai fossero andati perduti per una sofferenza, che non a mesi avesse potuto essere fisica, e l'attribuì all'amore per Guido. Del resto noi uomini siamo molto inclinati a compiangere le donne che si abbandonarono agli altri. Non vediamo mai quale vantaggio se ne possano aspettare. Possiamo magari amare l'uomo di cui si tratta, come avveniva nel caso mio, ma non sappiamo neppure allora dimenticare come di solito vadano a finire qua giù le avventure d'amore. Sentì una sincera compassione per Carmen come non l'avevo sentita mai per Augusta o per Carla. Le dissi. E giacché avete avuto la gentilezza di invitarmi ad esservi amico, mi permettereste di farvi degli ammonimenti? Essa non me lo permise, perché, come tutte le donne in cui frangenti, anch'essa credette che ogni ammonimento sia un'aggressione. Arrossì e balbettò. Non capisco. Perché dice così? E subito dopo, per farmi tacere. Se avessi bisogno di consigli, ricorrerei certamente a lei, signor Cosini. Perciò non mi fu concesso di predicarle la morale, e fu un danno per me. Predicandole la morale, certamente sarei arrivato ad un grado superiore di sincerità, magari tentando di prenderla di nuovo fra le mie braccia. Non mi arrovellerei più di aver voluto assumere quell'aspetto bugiardo di mentore. Per vari giorni di ogni settimana, Guido non si faceva neppur vedere in ufficio, perché si era appassionato alla caccia e alla pesca. Io invece, dopo il mio ritorno, per qualche tempo vi fui assiduo, occupatissimo nel mettere a giorno i libri. Ero spesso solo con Carmen e Luciano, che mi consideravano quale il loro capo ufficio. Non mi pareva che Carmen soffrisse per l'assenza di Guido, e mi figurai che essa l'amasse tanto da gioire al sapere che si divertiva. Doveva anche essere avvisata dei giorni in cui egli sarebbe stato assente, perché non tradiva alcuna attesa ansiosa. Sapevo, da Augusta, che Ada invece non era fatta così, perché si lagnava amaramente delle frequenti assenze del marito. Del resto non era questa la sua unica lagnanza. Come tutte le donne non amate, essa si lagnava con lo stesso calore delle offese grandi e di quelle piccole. Non soltanto Guido la tradiva, ma quando era in casa suonava sempre il violino. Quel violino, che mi aveva fatto tanto soffrire, era una specie di lancia di Achille, per la varietà delle sue prestazioni. Appresi che era passato anche per il nostro ufficio, ove aveva promossa la corte a Carmen, con delle bellissime variazioni sul barbiere. Poi era ripartito, perché in ufficio non occorreva più, ed era ritornato a casa, ove risparmiava a Guido la noia di dover conversare con la moglie. Fra me e Carmen non ci fu mai più nulla. Ben presto io ebbi per lei un sentimento di indifferenza assoluta, come se essa avesse cambiato di sesso, qualche cosa di simile a quello che provavo per Ada. Una viva compassione per ambe due e nient'altro. Proprio così. Guido mi colmava di gentilezze. Io credo che in quel mese in cui l'avevo lasciato solo, avesse imparato ad apprezzare la mia compagnia. Una donnina come Carmen può essere gradevole di tempo in tempo, ma non si può mica sopportarla per giornate intere. Egli mi invitò a caccia e a pesca. A borro la caccia, e decisamente mi rifiutai di accompagnarvelo. Invece una sera, spintovi dalla noia, finì con l'andare con lui a pesca. Al pesce manca ogni mezzo di comunicazione con noi, e non può addestare la nostra compassione. Se boccheggia anche quando è sano e salvo in acqua. Persino la morte non ne altera l'aspetto. Il suo dolore, se esiste, è celato perfettamente sotto le sue squame. Quando un giorno mi invitò ad una pesca notturna, mi riservai di vedere se Augusta mi avrebbe permesso di uscire quella sera e di restare fuori tanto tardi. Gli dissi che avrei ricordato che la sua barchetta si sarebbe staccata dal molo sartorio alle nove di sera, e che potendomi vi sarei trovato. Pensai perciò che anche lui dovette sapere subito che per quella sera non mi avrebbe riveduto, e che, come avevo fatto tante altre volte, non mi sarei recato all'appuntamento. Invece quella sera fui cacciato di casa dall'estrida della mia piccola Antonia. Più la madre la carezzava e più la piccina strillava. Allora tentai un mio sistema che consisteva nel gridar delle insolenze nel piccolo orecchio di quella scimmietta urlante. Nebbi il solo risultato di far cambiare il ritmo alle sue estrida, perché si mise a gridare dallo spavento. Poi avrei voluto tentare un altro sistema un poco più energico, ma Augusta ricordò in tempo l'invito di Guido e mi accompagnò alla porta, promettendomi di coricarsi sola se io non fossero incasato che tardi. Anzi, pur di mandarmi via, si sarebbe anche adattata di prendere senza di me il caffè la mattina appresso, se fossi rimasto fuori fino allora. C'è un piccolo dissidio fra me e Augusta, l'unico, sul modo di trattare i bambini fastidiosi. A me pare che il dolore del bambino sia meno importante del nostro e che valga la pena di infliggerglielo, pur di risparmiare un grande disturbo all'adulto. A lei invece sembra che noi, che abbiamo fatti i bambini, dobbiamo anche subirli. Avevo tutto il tempo per arrivare all'appuntamento, e attraversai lentamente la città, guardando le donne, e nello stesso tempo inventando un ordigno speciale, che avrebbe impedito ogni dissidio fra me ed Augusta. Ma per il mio ordigno l'umanità non era abbastanza evoluta. Esso era destinato al futuro lontano, e non poteva più giovare a me, se non dimostrandomi per quale piccola ragione si rendevano possibili le mie dispute con Augusta. La mancanza di un piccolo ordigno. Esso sarebbe stato semplice, un tramvai casalingo, una sediola fornita di ruote e rotaie sulla quale la mia bimba avrebbe passata la sua giornata, poi un bottone elettrico, toccando il quale la sediola con la bimba urlante si sarebbe messa a correre via, fino a raggiungere il punto più lontano della casa, donde la sua voce affievolita dalla lontananza ci sarebbe sembrata perfino gradevole, ed io ed Augusta saremmo rimasti insieme tranquilli ed affettuosi. Era una notte ricca di stelle e priva di luna, una di quelle notti in cui si vede molto lontano, e perciò dolcisce e quieta. Guardai le stelle che avrebbero potuto ancora portare il segno dell'occhiata d'addio di mio padre moribondo. Sarebbe passato il periodo orrendo in cui i miei bimbi sporcavano e urlavano, poi sarebbero stati simili a me. Io li avrei amati secondo il mio dovere e senza sforzo. Nella bella vasta notte mi rasserenai del tutto e senza aver bisogno di fare dei propositi. Alla punta del molo sartorio le luci provenienti dalla città erano tagliate dall'antica casetta da cui sporge la punta stessa, quale una breve fondamenta. L'oscurità era perfetta, e l'acqua alta e fosca e quieta mi pareva pigramente gonfia. Non guardai più né il cielo né il mare. A pochi passi da me c'era una donna che destò la mia curiosità, per uno stivaletto verniciato che per un istante brillò nell'oscurità. Nel breve spazio e nel buio a me parve che quella donna alta e forse elegante si trovasse chiusa in una stanza con me. Le avventure più gradevoli possono capitare quando meno ci si pensa, e vedendo che quella donna tutta ad un tratto deliberatamente si avvicinava, ebbi per un istante un sentimento piacevolissimo, che sparve subito quando sentì la voce rocca di Carmen. Voleva fingere di aver piacere d'apprendere che ero anch'io della partita, ma nell'oscurità e con quella specie di voce non si poteva fingere. Le dissi rudemente. — Guido mi ha invitato, ma se volete io trovo altro da fare e vi lascio soli. Ella protestò, dichiarando che anzi era felice di vedermi per la terza volta in quel giorno. Mi raccontò che in quella piccola barchetta si sarebbe trovato riunito l'ufficio intero, perché c'era anche Luciano. Guai per i nostri affari, se fosse andata a picco. Ma aveva detto che c'era anche Luciano, certo per darmi la prova dell'innocenza del ritrovo. Poi chiacchierò ancora volubilmente, dapprima dicendomi che era la prima volta che andava con Guido a pesca, e poi confessando che era la seconda. Si era lasciato sfuggire, che non le dispiaceva di star seduta a pagliolo in una barchetta, e a me era sembrato strano che essa conoscesse quel termine. Così dovette confessarmi di averlo appreso la prima volta che era stata a pesca con Guido. — Quel giorno, aggiunse per rivelare la completa innocenza di quella prima gita, andammo alla pesca degli sgombri e non delle orate, di mattina. Peccato che non abbia avuto il tempo di farla chiacchierare di più, perché avrei potuto sapere tutto quello che mi importava. Ma dall'oscurità della sacchetta uscì e si approssimò a noi rapidamente la barchetta di Guido. Io ero sempre in dubbio. Dal momento che c'era Carmen, non avrei dovuto allontanarmi? Forse Guido non aveva neppure avuto l'intenzione di invitarci ambedue, perché io ricordavo di aver quasi rifiutato il suo invito. Intanto la barchetta prodò, e, giovanilmente sicura anche nell'oscurità, Carmen vi scese, trascurando di appoggiarsi alla mano che Luciano le aveva offerta. — Poiché esitavo, Guido urlò. — Non farci perdere tempo! Con un balzo fui anch'io nella barchetta. Il balzo mio era quasi involontario, un prodotto dell'urlo di Guido. Guardavo con grande desiderio la terra, ma bastò un istante di esitazione per rendermi impossibile lo sbarco. Finì col sedermi a prua della non grande barchetta. Quando m'abituai all'oscurità, vidi che a poppa, di faccia a me, sedeva Guido, e ai suoi piedi, a pagliolo, Carmen. Luciano, che vogava, ci divideva. Io non mi sentivo né molto sicuro né molto comodo nella piccola barca, ma presto mi vi abituai, e guardai le stelle che di nuovo mi mitigarono. Era vero che, in presenza di Luciano, un servo devoto delle famiglie delle nostre mogli, Guido non si sarebbe rischiato di tradire Ada, e non c'era perciò niente di male che io fossi con loro. Desideravo vivamente di poter godere di quel cielo, quel mare e la vastissima quiete. Se avessi dovuto sentirne rimorso e perciò soffrire, avrei fatto meglio di restare a casa mia a farmi torturare dalla piccola Antonia. L'aria fresca, notturna, mi gonfiò i polmoni, e compresi che io potevo divertirmi in compagnia di Guido e Carmen, cui in fondo volevo bene. Passammo dinanzi al faro e arrivammo al mare aperto. Qualche miglio più in là brillavano le luci di innumerevoli velieri. Là si tendevano ben altre insidie al pesce. Dal bagno militare, una mole poderosa nereggiante sui suoi pali, cominciammo a muoverci su e giù lungo la riviera di Sant'Andrea. Era il posto prediletto dei pescatori. Accanto a noi, silenziosamente, molte altre barche facevano la stessa nostra manovra. Guido preparò le tre lenze e inescò gli ami, configgendovi dei gamberelli per la coda. Consegnò una lenza ad ognuno di noi, dicendo che la mia, a prua, la sola munita di piombino, sarebbe stata preferita dal pesce. Scorsi nell'oscurità il mio gamberello dalla coda trafitta, e mi parve che muovesse lentamente la parte superiore del corpo, quella parte che non era diventata una guaina. Per questo movimento mi parve piuttosto meditabondo che spasimanti dal dolore. Forse ciò che produce il dolore nei grandi organismi, nei piccolissimi, può ridursi fino a divenire un'esperienza nuova, un solletico al pensiero. Lo ficcai nell'acqua calandovelo, come mi fu detto da Guido, per dieci braccia. Dopo di me, Carmen e Guido calarono le loro lenze. Guido aveva ora, a poppa, anche un remo col quale spingeva la barca con l'arte che occorreva perché le lenze non si aggrovigliassero. Pare che Luciano non fosse ancora al caso di dirigere in tale modo la barchetta. Del resto, Luciano aveva ora l'incarico della piccola rete, con la quale avrebbe levato dall'acqua il pesce portato dal lamo fino alla superficie. Per lungo tempo egli non ebbe nulla da fare. Guido ciarlava molto. Chissà che non sia stato attaccato a Carmen dalla sua passione per l'insegnamento, piuttosto che dall'amore. Io avrei voluto non starlo a sentire, per continuare a pensare al piccolo animaletto che tenevo esposto alla voracità dei pesci, sospeso nell'acqua, e che i quei cegni della testolina, se li continuava anche in acqua, avrebbe adescato meglio il pesce. Ma Guido mi chiamò ripetute volte, e dovetti stare a sentire la sua teoria sulla pesca. Il pesce avrebbe toccato varie volte l'esca, e noi l'avremmo sentito, ma dovevamo guardarci del tirare la lenza finché non si fosse tesa. Allora dovevamo essere pronti per dare lo strappo che avrebbe infilzato sicuramente l'amo nella bocca del pesce. Guido, come al solito fu lungo nelle sue spiegazioni, voleva spiegarci chiaramente quello che avremmo sentito nella mano quando il pesce avrebbe annusato l'amo. E continuava le sue spiegazioni quando io e Carmen conoscevamo già per esperienza la quasi sonora ripercussione sulla mano di ogni contatto che l'amo subiva. Più volte dovevamo raccogliere la lenza per rinnovare l'esca. Il piccolo onimaluccio pensieroso finiva invendicato nelle fauci di qualche pesce a corto che sapeva evitare l'amo. A bordo c'era della birra e dei panini. Guido condiva tutto ciò con la sua chiacchiera inesauribile. Parlava ora delle enormi ricchezze che giacevano nel mare. Non si trattava, come Luciano credeva, né del pesce né delle ricchezze immersevi dall'uomo. Nell'acqua del mare c'era disciolto dell'oro. Improvvisamente ricordò che io avevo studiato chimica, e mi disse Anche tu devi sapere qualche cosa di quest'oro. Io non ne ricordavo molto, ma annui, arrischiando un'osservazione della cui verità non potevo essere sicuro. Dichiarai L'oro del mare è il più costoso di tutti. Per avere uno di quei napoleoni che giacciono qui disciolti, bisognerebbe spenderne cinque. Luciano, che ansiosamente si era rivolto a me per sentirmi confermare le ricchezze su cui nuotavamo, mi volse disilluso la schiena. A lui di quell'oro non importava più. Guido, invece, mi diede ragione, credendo di ricordare che il prezzo di quell'oro era esattamente di cinque volte tanto, proprio come avevo detto io. Mi glorificava addirittura, confermando la mia asserzione, che io sapevo del tutto cervellotica. Si vedeva che mi sentiva poco pericoloso, e che in lui non c'era ombra di gelosia per quella donna coricata ai suoi piedi. Pensai per un istante di metterlo in imbarazzo, dichiarando che ricordavo ora meglio, e che per trarre dal mare uno di quei napoleoni ne sarebbero bastati tre, o che ne sarebbero abbisognati addirittura dieci. Ma in quell'istante fui chiamato dalla mia lenza, che improvvisamente si era tesa per uno strappo poderoso. Strappai anch'io e gridai. Con un balzo Guido mi fu vicino e mi prese di mano la lenza. Gliela abbandonai volentieri. Egli si mise a tirarla su, prima a piccoli tratti, poi, essendo diminuita la resistenza, a grandissimi. E nell'acqua fosca si vide brillare l'argente o corpo del grosso animale. Correva oramai rapidamente e senza resistenza dietro al suo dolore. Perciò compresi anche il dolore dell'animale muto, perché era gridato da quella fretta di correre alla morte. Presto lebbi boccheggiante ai miei piedi. Luciano l'aveva tratto dall'acqua con la rete e, strappandone lo senza riguardo, gli aveva levato di bocca l'amo. Palpò il grosso pesce. Una rata di tre chilogrammi. Ammirando, disse il prezzo che se ne sarebbe domandato in pescheria. Poi Guido osservò che l'acqua era ferma a quell'ora e che sarebbe stato difficile dipigliare dell'altro pesce. Raccontò che i pescatori ritenevano che quando l'acqua non cresceva né calava, i pesci non mangiavano e perciò non potevano essere presi. Fece della filosofia sul pericolo che risultava ad un animale dal suo appetito. Poi, mettendosi a ridere, senza accorgersi che si comprometteva, disse — Tu sei l'unico che sappia pescare questa sera. La mia preda si dibatteva tuttavia nella varca, quando Carmen diede uno strido. Guido domandò senza muoversi e con una gran voglia di ridere nella voce. — Un'altra orata? Carmen, confusa, rispose. — Mi pareva, ma ha già abbandonato l'amo. Io sono sicuro che, trascinato dal suo desiderio, egli le aveva dato un pizzicotto. Io oramai mi sentivo a disagio in quella barca. Non accompagnavo più col desiderio l'opera del mio amo. Anzi, agitavo la lenza in modo che i poveri animali non potessero abboccare. Dichiarai che avevo sonno e pregai Guido di sbarcarmi a Sant'Andrea. Poi mi preoccupai di togliergli il sospetto che io me ne andassi, perché infastidito da quanto doveva avermi rivelato lo strido di Carmen. E gli raccontai della scena che aveva fatta la mia piccina quella sera, e il mio desiderio di accertarmi presto che non stesse male. Compiacente come sempre, Guido accostò la barca alla riva. M'offerse l'orata che io avevo pescata, ma io rifiutai. Proposi di ridarle la libertà, gettandola in mare, ciò che fece dare un urlo di protesta a Luciano, mentre Guido bonariamente disse. Se sapessi di poter ridarle la vita e la salute, lo farei, ma a quest'ora la povera bestia non può servire che in piatto. Li seguì con gli occhi, e potei accertarmi che non approfittarono dello spazio lasciato libero da me. Stavano bene serrati insieme, e la barchetta andò via un po' sollevata, a prua, dal troppo peso a poppa. Mi parve una punizione divina all'apprendere che la mia bambina era stata colta dalla febbre. Non l'avevo resa malata io, simulando con Guido una preoccupazione che non sentivo per la sua salute? Augusta non si era ancora coricata, ma poco prima c'era stato il dottor Paoli, che l'aveva rassicurata dicendo di essere sicuro che una febbre improvvisa tanto violenta non poteva annunziare una malattia grave. Restammo lungamente a guardare Antonia, che giaceva abbandonata sul piccolo giaciglio, la faccina dalla pelle asciutta arrossata intensamente sotto i bruni ricci scomposti. Non gridava, ma si lamentava di tempo in tempo con un lamento breve che veniva interrotto da un torpore imperioso. Dio mio! Come il male me la portava vicina! Avrei data una parte della mia vita per liberarle il respiro! Come togliermi il rimorso di aver pensato di non sapere amarla, e poi di aver passato tutto quel tempo in cui soffriva, lontano da lei e in quella compagnia! —Somiglia d'Ada, disse Augusta con un singulto. Era vero. Ce ne accorgemo allora per la prima volta, e quella somiglianza divenne sempre più evidente, a mano a mano che Antonia crebbe, tanto che io talvolta mi sento tremare il cuore al pensiero che le potrebbe toccare il destino della poverina a cui assomiglia. Ci coricammo dopo di aver posto il letto della bambina accanto a quello di Augusta. Ma io non potevo dormire. Avevo un peso al cuore, come quelle sere in cui i miei trascorsi della giornata si specchiavano in immagini notturne di dolore e di rimorso. La malattia della bambina mi pesava come un'opera mia. Mi ribellai. Io ero puro e potevo parlare, potevo dire tutto. E dissi tutto, raccontai ad Augusta dell'incontro con Carmen, della posizione che essa occupava nella barca, e poi del suo strido che io dubitai fosse stato provocato da una carezza brutale di Guido, senza però poter esserne sicuro. Ma Augusta ne era sicura, perché altrimenti subito dopo la voce di Guido sarebbe stata alterata dall'ilarità. Cercai di attenuare la sua convinzione, ma poi dovetti ancora raccontare. Feci una confessione anche per quanto concerneva me. Descrivendo la noia che m'aveva cacciato di casa e il mio rimorso di non amare meglio Antonia. Mi sentii subito meglio e m'addormentai profondamente. La mattina presso Antonia stava meglio, era quasi priva di febbre. Giaceva calma e libera di affanno, ma era pallida e affranta come se si fosse consunta in uno sforzo sproporzionato al suo piccolo organismo. Evidentemente essa era già uscita vittoriosa dalla breve battaglia. Nella calma che ne derivò anche a me, ricordai, dolendomene, di aver compromesso orribilmente Guido, e volli da Augusta la promessa che essa non avrebbe comunicato a nessuno i miei sospetti. Ella protestò che non si trattava di sospetti, ma di evidenza certa, ciò che io negai senza riuscire a convincerla. Poi essa mi promise tutto quello che vogli, ed io me ne andai tranquillamente in ufficio. Guido non c'era ancora, e Carmen mi raccontò che erano stati ben fortunati dopo la mia partenza. Avevano prese altre due orate, più piccole della mia, ma di un peso considerevole. Io non vogli crederlo, e pensai che essa volesse convincermi che alla mia partenza avessero abbandonata l'occupazione a cui avevano atteso finché c'ero stato io. L'acqua non si era fermata? Fino a che ora erano stati in mare? Carmen, per convincermi, mi fece confermare anche da Luciano la pesca delle due orate, ed io da quella volta pensai che Luciano, per ringraziarsi Guido, sia stato capace di qualunque azione. Sempre durante la calma idillica che precorse l'affare del solfato di rame, avvenne in quell'ufficio una cosa abbastanza strana che non so dimenticare, tanto perché mette in evidenza la smisurata presunzione di Guido, quanto perché pone me in una luce nella quale me è difficile di ravvisarmi. Un giorno eravamo tutti e quattro in ufficio, e il solo che fra di noi parlasse di affari era, come sempre, Luciano. Qualche cosa nelle sue parole suonò allo recchio di Guido quale una rampogna, che in presenza di Carmen gli era difficile di sopportare. Ma altrettanto difficile era difendersene, perché Luciano aveva le prove che un affare che gli aveva consigliato mesi prima e che da Guido era stato rifiutato, aveva finito col rendere una quantità di denaro a chi se ne era occupato. Guido finì col dichiarare di disprezzare il commercio e asserire che se la fortuna non l'avesse assistito in questo, egli avrebbe trovato il mezzo di guadagnare del denaro con altre attività molto più intelligenti. Col violino, per esempio. Tutti furono d'accordo con lui, ed anch'io, ma con la riserva. A patto di studiare molto. La mia riserva gli dispiacque. E disse subito che se si trattava di studiare, egli allora avrebbe potuto fare molte altre cose, per esempio della letteratura. Anche qui gli altri furono d'accordo, ed io stesso, ma con qualche esitazione. Non ricordavo bene le fisonomie dei nostri grandi letterati, e le evocavo per trovarne una che somigliasse a Guido. Egli allora urlò. — Volete delle buone favole? Io ve ne improvviso come esopo. Tutti risero, meno lui. Si fece dare la macchina da scrivere, e correntemente, come se avesse scritto sotto dettatura, con gesti più ampi di quanto esigesse un lavoro utile alla macchina, stese la prima favola. Porceva già il foglietto a Luciano, ma si ricredette, lo riprese e lo rimese a posto nella macchina, scrisse una seconda favola, ma questa gli costò più fatica della prima, tanto che dimenticò di continuare a simulare con gesti l'ispirazione, e dovette correggere il suo scritto più volte. Perciò io ritengo che la prima delle due favole non sia stata sua, e che invece la seconda sia veramente uscita dal suo cervello, di cui mi sembra degna. La prima favola diceva di un uccelletto, al quale avvenne d'accorgersi che lo sportellino della sua gabbia era rimasto aperto. Dapprima pensò di approfittarne per volar via, ma poi si ricredette, temendo che se durante la sua assenza lo sportellino fosse stato rinchiuso, egli avrebbe perduta la sua libertà. La seconda trattava di un elefante, ed era veramente elefantesca. Soffrendo di debolezza alle gambe, il grosso animale andava a consultare un uomo, celebre medico, il quale, al vedere quegli arti poderosi, gridava, «Non vidi giammai delle gambe tanto forti!» Luciano non si lasciò imporre da quelle favole, anche perché non le capiva. Rideva abbondantemente, ma si vedeva che gli sembrava comico che una cosa simile gli fosse presentata come commerciabile. Rise poi anche per compiacenza, quando gli fu spiegato che l'uccellino temeva di essere privato della libertà di ritornare in gabbia, e l'uomo mirava le gambe, per quanto deboli, dell'elefante. Ma poi chiese, «Quanto si ricava da due favole così?» Guido fece da uomo superiore, il piacere d'averle fatte, e poi, volendo farne di più, anche molti denari. Carmen invece era agitata dall'emozione, domandò il permesso di poter copiare quelle due favole, e ringraziò riconoscente quando Guido le offerse in dono il foglietto che gli aveva scritto, dopo di averlo anche firmato a penna. Che cosa c'entravo io? Non avevo da battermi per l'ammirazione di Carmen, della quale, come ho detto, non mi importava nulla, ma ricordando il mio modo di fare, devo credere che anche una donna, che non sia rilevata dal nostro desiderio, possa spingerci alla lotta. Infatti non si battevano gli eroi medievali, anche per donne che non avevano mai viste? A me quel giorno avvenne che i dolori lancinanti del mio povero organismo improvvisamente si facessero acuti, e mi parve di non poterli attenuare, altrimenti che battendomi con Guido, facendo subito delle favole anch'io. Mi feci consegnare la macchina, ed io veramente improvvisai. Vero è che la prima delle favole che feci stava da molti giorni nel mio animo. Ne improvvisai il titolo. Inno alla vita. Poi, dopo breve riflessione, scrissi di sotto. Dialogo. Mi pareva più facile di far parlare le bestie che descriverle. Così nacque la mia favola dal dialogo brevissimo. Il gamberello meditabondo. La vita è bella, ma bisogna badare al posto dove ci si siede. L'orata, correndo dal dentista. La vita è bella, ma bisognerebbe eliminare quegli animalucci traditori che celano nella carne saporita il metallo accuminato. Ora bisognava fare la seconda favola, ma mi mancavano le bestie. Guardai il cane che giaceva nel suo cantuccio, e anch'esso guardò me. Da quegli occhi timidi trassi un ricordo. Pochi giorni prima Guido era ritornato da caccia pieno di pulci, ed era andato a nettarsi nel nostro ripostiglio. Ebbi allora subito la favola, e la scrissi correntemente. C'era una volta un principe morso da molte pulci. S'appellò gli dèi che gli infliggessero una sola pulce. Grossa e famelica, ma una sola, e destinassero le altre agli altri uomini. Ma nessuna delle pulci accettò di restare sola con quella bestia d'uomo, ed egli dovette tenersele tutte. In quel momento le mie favole mi parvero splendide. Le cose che escono dal nostro cervello hanno un aspetto sovranamente amabile, specie quando si esaminano, non appena nate. Per dire la verità il mio dialogo mi piace anche adesso, che ho fatta tanta pratica nel comporre. L'inno alla vita fatto dal morituro è una cosa molto simpatica per coloro che lo guardano morire, ed è anche vero che molti moribondi spendono l'ultimo fiato per dire quella che a loro sembra la causa per cui muoiono, innalzando così un inno alla vita degli altri che sapranno evitare quell'accidente. In quanto alla seconda favola non voglio parlarne, e fu commentata argutamente da Guido stesso, che gridò ridendo. Non è una favola, ma un modo di darmi della bestia. Risi con lui, e i dolori che mi avevano spinto a scrivere, s'attenuarono subito. Luciano rise quando gli spiegai quello che avevo voluto dire, e trovò che nessuno avrebbe pagato qualche cosa né per le mie né per le favole di Guido. Ma a Carmen le mie favole non piacquero. Mi diede un'occhiataccia indagatrice che era veramente nuova per quegli occhi, e che io intesi come se fosse stata una parola detta. Tu non ami Guido. Ne fui addirittura sconvolto, perché in quel momento essa certamente non sbagliava. Pensai che avevo torto di comportarmi come se non amassi Guido, io che poi lavoravo disinteressatamente per lui. Dovevo fare attenzione al mio modo di comportarmi. Dissimi tementi a Guido. Riconosco volentieri che le tue favole sono migliori delle mie. Bisogna però ricordare che sono le prime favole che ho fatte in vita mia. Egli non si arrese. Credi forse che io ne abbia fatte delle altre? Lo sguardo di Carmen si era già raddolcito, e per ottenerlo più dolce ancora io dissi a Guido. Tu hai certamente un talento speciale per le favole. Ma il complimento fece ridere tutti e due, e subito dopo anche me, ma tutti bonariamente, perché si vedeva che avevo parlato senza alcuna intenzione maligna. L'affare del solfato di rame diede una maggiore serietà al nostro ufficio. Non c'era più tempo per le favole. Quasi tutti gli affari che ci venivano proposti erano ormai da noi accettati. Alcuni diedero qualche utile, ma piccolo, altri delle perdite, ma grandi. Una strana avarizia era il principale difetto di Guido, che fuori degli affari era tanto generoso. Quando un affare si dimostrava buono, egli lo liquidava frettolosamente, avido di incassare il piccolo utile che gliene derivava. Quando invece si trovava involto in un affare sfavorevole, non si decideva mai ad uscirne pur di ritardare il momento in cui doveva toccare la propria tasca. Per questo io credo che le sue perdite siano state sempre rilevanti, e i suoi utili piccoli. Le qualità di un commerciante non sono altro che le risultanti di tutto il suo organismo, dalla punta dei capelli fino alle unghie dei piedi. A Guido si sarebbe adattata una parola che hanno i greci. Astuto e imbecille. Veramente astuto, ma anche veramente uno scimonito. Era pieno di accortezze che non servivano ad altro che adungere il piano inclinato sul quale scivolava sempre più in giù. Assieme al solfato di rame gli capitarono tra capo e collo i due giamelli. La sua prima impressione fu di sorpresa tutt'altro che piacevole, ma subito dopo di avermi annunziato l'avvenimento, gli riuscì di dire una facezia che mi fece ridere molto, per cui, compiacendosi del successo, non seppe conservare il cipiglio. Associando i due bambini alle sessanta tonnellate di solfato, disse «Sono condannato a lavorare all'ingrosso, io». Per confortarlo gli ricordai che Augusta era di nuovo nel settimo mese e che ben presto, in fatto di bambini, avrei raggiunto il suo tonnellaggio. Rispose sempre argutamente. A me, da buon contabile, non sembra la stessa cosa. Dopo qualche giorno, per qualche tempo, fu preso da un grande affetto per i due marmocchi. Augusta, che passava una parte della sua giornata dalla sorella, mi raccontò che gli dedicava loro ogni giorno qualche ora. Li carezzava e ninnava, e Ada gliene era tanto riconoscente che fra i due coniugi sembrava rifiorire un nuovo affetto. In quei giorni egli versò un importo abbastanza vistoso ad una società d'assicurazione per far trovare ai figli, a vent'anni, una piccola sostanza. Lo ricordo per aver io registrato quell'importo a suo debito. Fu invitato anch'io a vedere i due gemelli. Anzi, da Augusta mi era stato detto che avrei potuto salutare anche Ada, che, invece, non poteva ricevermi, dovendo stare a letto, adonta che fossero passati già dieci giorni dal parto. I due bambini giacevano in due culle in un gabinetto attiguo alla stanza dal letto dei genitori. Ada, dal suo letto, mi gridò, — Sono belli, Zeno! Restai sorpreso dal suono di quella voce. Mi parve più dolce. Era un vero grido perché vi si sentiva uno sforzo, eppure rimaneva tanto dolce. Senza dubbio la dolcezza in quella voce veniva dalla maternità, ma io ne fui commosso perché ve la scoprivo proprio quando era rivolta a me. Quella dolcezza mi fece sentire come se Ada non m'avesse chiamato col solo mio nome, ma premettendovi anche qualche qualificativo affettuoso come caro o fratello mio. Ne sentii una viva riconoscenza, e divenni buono ed affettuoso. Risposi festosamente. — Belli, cari, somiglianti, due meraviglie! Mi parevano invece due morticini scoloriti. Vagivano ambedue e non andavano d'accordo. Presto Guido ritornò alla vita di prima. Dopo l'affare del solfato veniva più assiduo in ufficio, ma ogni settimana, al sabato, partiva per la caccia, e non ritornava che a lunedì mattina tardi, e giusto in tempo per dare un'occhiata all'ufficio prima di colazione. Alla pesca andava di sera, e passava spesso la notte in mare. Augusta mi raccontava dei dispiaceri di Ada, la quale soffriva bensì di una frenetica gelosia, ma anche di trovarsi sola per tanta parte della giornata. Augusta tentava di calmarla, ricordandole che a caccia e a pesca non c'erano donne, però, non si sapeva da chi, Ada era stata informata che Carmen talvolta aveva accompagnato Guido a pesca. Guido poi l'aveva confessato, aggiungendo che non c'era niente di male, in una gentilezza che gli usava ad un'impiegata che gli era tanto utile. E poi non c'era stato sempre presente Luciano? Egli finì col promettere che non l'avrebbe invitata più, visto che a Ada ciò dispiaceva. Dichiarava di non voler rinunciare né alla sua caccia, che gli costava tanti denari, né alla pesca. Diceva di lavorare molto, e infatti in quell'epoca nel nostro ufficio c'era molto da fare, e gli pareva che un po' di svago gli spettasse. Ada non era di tale parere, e le sembrava che il miglior svago egli l'avrebbe avuto in famiglia, e trovava in ciò l'assenso incondizionato di Augusta, mentre a me quello sembrava uno svago troppo sonoro. Augusta allora esclamava. — E tu non sei forse a casa ogni giorno, ad ore debite? Era vero, ed io dovevo confessare che fra me e Guido c'era una grande differenza, ma non sapevo vantarmene, dicevo ad Augusta, accarezzandola. Il merito è tuo, perché hai usato dei metodi molto drastici di educazione. D'altronde per il povero Guido le cose andavano peggiorandosi ogni giorno di più. Dapprima c'erano stati bensì due bambini, ma una balia sola, perché si sperava che Ada avrebbe potuto nutrire uno dei bambini. Invece essa non lo poté, e dovettero far venire un'altra balia. Quando Guido voleva farmi ridere, camminava su e giù per l'ufficio battendosi il tempo con le parole. — Una moglie, due bambini, due balie. C'era una cosa che Ada specialmente odiava, il violino di Guido. Essa sopportava i vagiti dei bambini, ma soffriva orrendamente per il suono del violino. Aveva detto ad Augusta. — Mi sentirei di abbaiare come un cane contro quei suoni. — Strano. Augusta, invece, era beata quando, passando dinanzi al mio studiolo, sentiva uscirne i miei suoni aritmici. — Eppure anche il matrimonio di Ada è stato un matrimonio d'amore, dicevo io stupito. — Non è il violino la miglior parte di Guido? Tali chiacchiere furono del tutto dimenticate, quando io rividi per la prima volta Ada. Fui proprio io che per il primo mi accorsi della sua malattia. Uno dei primi giorni del novembre, una giornata fredda, priva di sole, umida, abbandonai eccezionalmente l'ufficio alle tre del pomeriggio, e corsi a casa, pensando di riposare e sognare, per qualche ora, nel mio studiolo caldo. Per recarmivi dovevo passare il lungo corridoio, e dinanzi alla stanza di lavoro di Augusta mi fermai, perché sentii la voce di Ada. Era dolce o malsicura, ciò che si equivale, io credo, come quel giorno in cui era stata indirizzata a me. Entrai in quella stanza, spintovi dalla strana curiosità, di vedere come la Serena, la calma Ada, potesse vestirsi di quella voce che ricordava un po' quella di qualche nostra attrice, quando vuol far piangere, senza saper piangere essa stessa. Infatti era una voce falsa, o io la sentivo così, solo perché, senza neppure aver visto chi lei metteva, la percepivo per la seconda volta dopo tanti giorni, sempre ugualmente commossa e commovente. Pensai parlassero di Guido, perché quale altro argomento avrebbe potuto commuovere a quel modo Ada? Invece le due donne, prendendo una tazza di caffè insieme, parlavano di cose domestiche, biancheria, servitù, eccetera. Ma mi bastò di aver vista Ada per intendere che quella voce non era falsa. Commovente era anche la sua faccia, che io per primo scoprivo tanto alterata. E quella voce, se non si accordava con un sentimento, rispecchiava esattamente tutto un organismo, ed era perciò vera e sincera. Questo io sentii subito. Io non sono un medico, e perciò non pensai ad una malattia. Ma cercai di spiegarmi l'alterazione nell'aspetto di Ada come un effetto della convalescenza dopo il parto. Ma come si poteva spiegare che Guido non si fosse accorto di tanto mutamento avvenuto nella sua donna? Intanto io, che sapevo a mente quell'occhio, quell'occhio che io tanto avevo temuto perché subito m'ero accorto che freddamente esaminava cose e persone per ammetterle o respingerle, potei constatare subito che era mutato, ingrandito, come se per vedere meglio avesse forzata l'orbita. Stonava quell'occhio grande, nella faccina immiserita e scolorita. Mi stese con grande affetto la mano. — Già lo so, mi disse. Tu approfitti di ogni istante per venire a riveder tua moglie e la tua bambina. Aveva la mano madida di sudore, ed io so che ciò denota debolezza. Tanto più mi figurai che, rimettendosi, avrebbero riacquistati gli antichi colori e le linee sicure delle guance e dell'incassatura dell'occhio. Interpretai le parole che m'aveva indirizzate quale un rimprovero rivolto a Guido, e bonariamente risposi che Guido, quale proprietario della ditta, aveva maggiori responsabilità delle mie che lo legavano all'ufficio. Mi guardò indagatrice per assicurarsi che io parlavo sul serio. — Ma pure, disse, mi sembra che potrebbe trovare un po' di tempo per sua moglie e i suoi figli. E la sua voce era piena di lacrime. Si rimise con un sorriso che domandava indulgenza, e soggiunse. — Oltre agli affari ci sono anche la caccia e la pesca. Quelle, quelle portano via tanto tempo. Con una volubilità che mi stupì, raccontò dei cibi prelibati che si mangiavano alla loro tavola in seguito alla caccia e alla pesca di Guido. — Tuttavia vi rinunzierei volentieri. Soggiunse poi con un sospire e una lagrima. Non si diceva però infelice, anzi, raccontava che ormai non sapeva neppur figurarsi che non le fossero nati due bambini che essa adorava. Con un po' di malizia aggiungeva sorridendo che li amava di più ora che ciascuno aveva la sua balia. Essa non dormiva molto, ma almeno quando arrivava a prendere sonno nessuno la disturbava, e quando le chiesi se davvero dormisse tanto poco, si rifece seria e commossa per dirmi che era il suo maggior disturbo. Poi lieta aggiunse. — Ma va già meglio. Poco dopo ci lasciò per due ragioni. Prima di sera doveva andare a salutare la madre, e poi non sapeva sopportare la temperatura delle nostre stanze, munite di grandi stufe. Io, che ritenevo quella temperatura appena gradevole, pensai fosse un segno di forza quello di sentirla eccessivamente calda. — Non pare che tu sia tanto debole, — dissi sorridendo. — Vedrai come sentirai diversamente alla mia età. Essa si compiacque molto di sentirsi designare come troppo giovine. Io ed Augusta l'accompagniamo fino al pianerottolo. Pareva sentisse un grande bisogno della nostra amicizia, perché per fare quei pochi passi camminò in mezzo a noi, e si prese prima al braccio di Augusta, e poi al mio, che io subito irrigidì, per paura di cedere ad un'antica abitudine di premere ogni braccio femminile che soffrisse al mio contatto. Sul pianerottolo parlò ancora molto, e avendo ricordato il padre suo, ebbe gli occhi di nuovo umidi, per la terza volta in un quarto d'ora. Quando se ne fu andata, io dissi ad Augusta che quella non era una donna, ma una fontana. Benché avessi vista la malattia di Ada, non vi diede alcuna importanza. Aveva l'occhio ingrandito. Aveva la faccina magra. La sua voce sarà trasformata ed anche il carattere in quell'affettuosità che non era sua, ma io attribuivo tutto ciò alla doppia maternità e alla debolezza. Insomma, io mi dimostrai un magnifico osservatore, perché vidi tutto. Ma un grande ignorante, perché non dissi la vera parola. Malattia. Segue. Grazie. Grazie.